Simone Oh aspetti no Ma che strefo Simone Oh Oh mi dico Ma che ti ho fatto male Guardami Welcome to avu guys Come state? Io sono Simone E questo è il mio No raga Questi cavi non vanno bene Così si E questo è il mio canale Wow Ciao a tutti raga Ah raga Vabbè Avevo sentito qualcuno Poi vedrò quando Vedremo un zia massimo nel montaggio Quel fallito Siamo alla casa al mare di nonna Lucia Ciao la nonna La nonna La tipo Nonnastra Non so se esiste la nonnastra Vabbè Hashtag nonnastra E di Simone carciolone Quindi Allora Anche oggi urlerò Perché non mi prega niente Che voi dite che non devo urlare Ricordatevi di andarmi a seguire Sul mio profilo Instagram Simone dei Bianchi E che cosa andrò a fare oggi? Oggi andremo ad ignorare Simone carciolino Per 24 ore Yes Perché siamo in vacanza Come dei fidanzatini Non è vero Quindi raga Ci vediamo dopo con il video Lo dobbiamo ignorare E se perdo Niente Non perdo Ok ragazzi Allora Sono quasi arrivato a casa Un po' a lunga la strada Comunque Continuo a sentire Dei passi Tipo di persone Come se Non lo so Mi stanno inseguendo Però boh Ma raga Non lo so ma Tipo da là Lo vedete lì? Quello Quei tipo rifugio Non lo so Un po' impietante Poi qua ci stanno tutte queste canne Oddio No raga No raga L'hai disse Ah raga non l'avete sentito? No raga mi sto cagando sotto Poi non c'è nessuno intorno a me Cioè è completamente libero Però Non lo so Vabbè raga Ci vediamo fra poi Quella lì è la casa Quella dovrebbe essere la casa A meno che non mi sono perso Quindi andiamo E facciamo il prank A Simon Gargiulino Ok raga Stiamo davanti al sentiero Che cos'era? Raga che cos'era? Oddio non so se si è visto C'è qualcuno che corre Aspetta Oddio Siamo entrati con il cancelletto Ok raga siamo arrivati Però Ogni tanto vedo gente che corre Vabbè A dopo Ok ragazzi allora Mi sono entrato Mi sono fatto la doccia Quindi mi sono cambiato Yes Qui c'è Carlo Bella Carlo Sì Sì Chimica bitch Quindi allora Vediamo un po' Dove sta Simone Dove sta erano? Ok Simone sta lì Quello che faremo oggi Già ve l'ho detto E appena Simone Che ne so Mi chiama Viene Noi che rispondono Però Carlo Noi dobbiamo rispondere Perché è una razza a parte Vabbè Buona chimica Se vediamo dopo raga Ok raga E là c'è sempre Carletto Saluta Carlo Bella Allora ho messo la telecamera qui Ci sono intorno tutti i vestiti mia E ho preso dalla valigia Niente Appena Simone verrà a fare qualcosa Lo ignoreremo Simo Sono le 13.32 Mi fai sta storia per Instagram Non so tre ore E te l'ho chiesta La prima che uscissi da casa Oh Oddio questo qua Questo musical Lì Cagni Simone Mi avete fatto Carlo Che c'è 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 Stava qua Ma guardavo anche il video Simone Oh E ti ricordo Che alle 14.70 Devi fare una storia Per tale 19 Che esce il nuovo video Vedi che puoi fare Perché già mi sta a faruta Comunque tutto ciò Oggi Le cose abbiamo fatto C'è Tre Tre erano Un certo Facciamo schifo Ancora Mi rispondi Quando fai così Oh Simo Si Simo Si Simo Si Qui Simo Si Si La Ma non può rispondere Oh Carlo Mi dici qualcosa te Oggi Simo Ciao Simo Eh Carlo Sto è stupido Stai scherzando Oh Oh Ti sei d'aiuto poi Eh Matta Che palle Sto in internet Che un pia Oh Dai vieni fuori Così facciamo pure La storia di tu in Instagram Che sei a studio Kimica Ma stai giocando Oh Mi devi rispondere Oh Mi rispondi Ti giuro Ti odio Ti odio Ti odio Ah Mi stacca Simo No Yes Ok raga Adesso Farò finta di registrare Un vlog a caso E Vediamo Un po' Tipo la sua relazione Perché di solito I vlog Li programma lui Quindi vediamo Welcome to Waymo Guys Come state Io sono Simone Questo è Il mio Perare Ah Cosa Stai girando Allora ragazzi Oggi Video Epico Oh Aspetti un attimo Ma che stai qua Allora Andremo a fare Oh Simone No qua non si vede Bella Salve Eh Ecco Eppure Pronto Allora Oggi andremo a fare Un video Bellissimo Dove In poche parole E È pronto In poche parole Ok raga Adesso Andrò a paranzare Magari Beh 黃 Dove Allora E E E Ce E Ha finito di Ignorarmi o dobbiamo funzionare così? sono andato pure da Carlo, ho chiesto che hai fatto non hai fatto niente, abbiamo arrangiato e non mi hai cagato tutto il tempo oh oh mi devi parlare in faccia no, timone mi guardi in faccia allora stai al posto, allora sei proprio attivato, che è successo? Cioè che ti ho fatto? che ti ho fatto? Carlo? basta parlare che ti ho fatto di male? oh guarda, oh mi dici che ti ho fatto? non ti ripi stupido cioè non abbiamo litigato, non ti ho detto niente tutto il giorno ci siamo svegliati tutto a posto e quello andava bene oh che demo fa? quindi? oh mi caghi allora stai a rire dai dimmi che hai fatto oh ti guardi? guardi guardami guardami che ti ho fatto di male? che ti ho fatto? che stai a fare? stupido buffo e ignoro il mio bel dai sei incredibile mi hai fatto malissimo dai sei cattivissimo però dai però sei cattivo io non ti ho fatto niente di male non ti ho fatto di male malissimo tanto dai è sempre così e anzi finito questo video continuerò ad ignorarlo no mi fai schifo hashtag simonò hashtag hashtag ma devo fare la serie di tutti i hashtag cioè lo sappiamo che voi ci vediate quando noi diciamo mille hashtag ma non ho fatto pace ma non ho fatto pace con te carlo? dai carlo? dove sta carlo? che sta parlando? bravo complice infatti ah tu hai di complice? ah già eccetto quindi ragazzi per questo video è tutto spero vi sia piaciuto vi ricordo di mettere like e di iscrivervi al canale e attivare la campanella e andarci a seguire su instagram cioè simone di fianchi simone cargiulli no ma mosi no ma e su musicalini anzi tik tok e agli simone vivi di assenega per questo video è tutto wow ciao 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 ciao